Buongiorno a tutti, oggi abbiamo con noi un ospite a cui io sono particolarmente affezionato sia come interlocutore intellettuale che come amico con cui ho potuto condividere un pezzo della mia carriera, si tratta del dottor Lucio Gobbi che è ricercatore presso l'Università di Trento e che ho avuto la possibilità di conoscere quando io iniziavo ad insegnare e lui era nella fase finale del suo percorso formativo presso l'Università Bocconi. Lucio è stato un mio studente, ho avuto anche la possibilità di fargli da correlatore per una bella tesi di laurea dalla quale poi abbiamo potuto estrarre un lavoro scientifico che è stato pubblicato sul Cambridge Journal of Economics. Abbiamo poi continuato a collaborare soprattutto su tematiche di politica economica internazionale e di analisi monetaria. Lucio da diverso tempo si occupa anche di sistemi dei pagamenti internazionali, ha scritto a riguardo dei contributi importanti insieme a Luca Fantacci e da febbraio insieme a Luca Fantacci sta collaborando con l'ISPI sul cui sito ha pubblicato quattro diversi interventi che vi segnalo anche per poter rivedere ciò di cui ci parlerà oggi. Il tema della sua lezione è il conflitto russo-ucraino, le sanzioni economiche e finanziarie. Il punto di contatto rispetto al nostro corso di politica economica è dato dal fatto che all'interno di questa lezione emergerà la natura della politica monetaria in un modo un po' diverso rispetto a quello al quale finora siete abituati. Io direi che sotto un certo punto di vista Lucio cercherà di mettere in mostra quelle infrastrutture fondamentali che rendono possibile un funzionamento della politica monetaria che in qualche modo possa aiutarci a governare il sistema economico. Ma senza infrastrutture fondamentali non sappiamo come la politica monetaria potrebbe trasmettere i suoi effetti alla economia reale. Beh, tra queste infrastrutture fondamentali c'è sicuramente il sistema dei pagamenti internazionali che è ciò che si sta rimettendo in discussione a partire da questa situazione così delicata che come mondo occidentale ma direi come mondo intero stiamo vivendo in questi mesi. Gli cielo subito la parola e lo ringrazio per essere qui con noi. Ok, grazie mille Stefano dell'invito grazie ragazzi Noi come ci dicevamo poc'anzi comincerò questa breve lezione che durerà 45-50 minuti facendo una contestualizzazione un po' storico-economica degli ultimi 25-30 anni per poi iniziare a fare uno zoom su le sanzioni sia economiche che finanziarie in un periodo pre-invasione del 24 febbraio in particolare nel periodo dell'arco di tempo che va dal 2014 al 24 febbraio del 22 e poi guarderemo, cercheremo di zoomare quello che è successo sul sistema dei pagamenti e sul sistema monetario dal 24 febbraio ad oggi e soprattutto cercheremo di capire quali potrebbero, perché nessuno ha diciamo la sfera di cristallo essere le implicazioni in un futuro prossimo e a medio termine Stefano possiamo andare alla slide 2 e diciamo che la nostra storia la storia che io cercherò di raccontarvi oggi è una storia che inizia da una fine e la fine è la fine dell'Unione Sovietica io mi sono accorto di essere vecchio quando con i miei studenti in classe parlando di Unione Sovietica vedevo che facevano delle fazze come se non sapessero perché? Perché sono nati dopo e quindi ognuno ha i suoi punti di riferimento diciamo che nel 91 la caduta dell'Unione Sovietica è la caduta di un mondo è la caduta di una lotta tra due grandi sistemi e quindi diciamo che è il nostro spartiacque qui comincia la nostra storia se volete avere dei riferimenti che cosa vi potrei dire? vi potrei dire il secolo breve di Hobsbawm che vi racconta e vi contestualizza tutto quello che è successo fino alla caduta dell'Unione Sovietica per capire che cos'era quel sistema di cui voi non avete non avete, non dico memoria ma non ne avete avuto conoscenza e dico anche per fortuna per tanti versi il passato di un'illusione di Fouret e sicuramente un libro che sentite probabilmente citare tanto in questi giorni che è la fine della storia di Francis Fukuyama perché Fukuyama è importante? Fukuyama è un filosofo conservatore che quando nel 91 crolla l'Unione Sovietica si dice beh siamo alla fine della storia il novecento è stato quel periodo in cui si sono confrontati tre grandi sistemi alternativi che sono stati fascismo comunismo e capitalismo la seconda guerra mondiale ha eliminato il fascismo come opzione politica istituzionale sono rimasti due sistemi che si sono fatti la guerra e il crollo, l'implosione dell'Unione Sovietica come un sistema istituzionale non efficiente e non all'altezza della sfida ha fatto sì che un unico sistema quello più efficiente sia rimasto e che da quel momento in avanti l'unico obiettivo di politica economica mondiale sarebbe stato quello di estendere il modello capitalista in tutto il globo ed è il famoso processo di globalizzazione e così inizia il decennio degli anni novanta un decennio che ha visto anche una grande una fuga dalla povertà di milioni e milioni di persone un grande sviluppo economico e finanziario con mercati in cui si è potuto osservare una grande crescita dell'interrelazione e la rivoluzione tecnologica avvenuta all'inizio degli anni novanta ha permesso anche un'integrazione finanziaria dei mercati e quindi un processo di incremento dell'interrelazione economica finanziaria che faceva presagire proprio quello che ci diceva Fukuyama ovvero l'idea che da quel momento in avanti sarebbe solo trattato di andare a misurare il grado di crescita di questo processo ma che in fondo non sarebbe neanche servita una serie di istituzioni politiche a guidare questo processo perché? perché il meccanismo più efficiente sarebbe stato in grado da solo di produrre di produrre questo grande mercato globale possiamo andare avanti Stefano qui vedete una vignetta forse voi siete troppo giovani nei miei tempi andava molto i Simpson che era un cartone nella vignetta che nel meme che cosa vedete? vedete è Francis Fukuyama che cazza la storia lui con un vago sapore che li hanno il suo libro si chiama La fine della storia e l'ultimo uomo della serie abbiamo finito adesso questo grande processo di globalizzazione e però però la storia torna dietro e quindi non ce ne può liberare nella slide successiva entriamo nel nuovo millennio entriamo nel vostro mondo in quelle cose che a voi iniziano a parlare voi probabilmente nascete io non so se a cavallo o comunque negli anni dell'attentato elettore gemella quella è una prima frattura di quel processo una frattura una frattura che però non sembra all'inizio avere avere creato degli sconquassi totali perché perché l'attacco all'ettore gemella non fa crollare i mercati finanziari e nonostante sia un evento sistemico improvviso i mercati finanziari hanno tenuto e questo è un primo era spesso stato visto come una conferma che il sistema era molto efficiente persino un evento così improvviso non aveva fatto saltare i mercati finanziari in più che cosa che cosa ha visto che nella lotta al terrorismo America Russia ma anche Cina avendo delle minoranze islamiche anche molto rilevanti nel caso della Russia circa il 19% della popolazione russa e musulmana e quindi il 2001 è una frattura ma non è un evento sistemico perché le grandi potenze la Cina si affaccia sul tavolo all'inizio del millennio e ancora lì insomma l'ha segnalato Russia e America però anche la Cina avendo qualche problema diciamo con qualche minoranza musulmana entra pienamente in questo processo di gestione del fondamentalismo e quindi potremmo dire che è una frattura segna segna diciamo un momento in cui tutto quel mondo degli anni 90 ha diciamo viene colpita da uno shock ma sembra resistere quello che invece sono i colpi da cui poi questo processo di globalizzazione non si è più ripreso sono la crisi finanziaria del 2007 2009 in cui il modello il modello che è iniziato a rispiegarsi negli anni negli anni 90 e poi ha una crisi endogena quindi non uno shock esterno ma una crisi prodotta endogenamente dal sistema finanziario capitalista questo è un grande punto nello stesso anno Putin farà una conferenza davanti ai capi di Stato davanti ai imprenditori dove darà un po' la sua visione del mondo della serie fino fino ad adesso gli americani avevano avevano una concezione unipolare del mondo dove il loro modello sarebbe stato esportato in tutte le parti in cui loro sarebbero stati guardiani di questo processo io vi dico che da adesso in poi non sarà più così perché noi abbiamo la nostra visione la nostra visione tra cui anche aree di influenza qui nascono tutte quelle cose che oggi ci ritroviamo e inizia anche tutta una serie di tensioni russo-americane che poi ritroveremo su diversi campi di battaglia come ad esempio in Siria come in Georgia come in maniera indiretta in Cecenia ma non entriamo nei dettagli ma come in Ucraina quindi si comincia almeno a parole o comunque anche in dei conflitti a concepire un mondo differente nei fatti qui non diciamo un mondo tripolare anche perché non faremo degli approfondimenti sulla Cina ma piano piano la Cina diventerà la seconda potenza economica mondiale andiamo avanti Stefano cerchiamo di tracciare un po' un identikit di chi sono queste potenze o cerchiamo anche di farci la domanda per chiederci sono delle potenze prima della pandemia noi se guardiamo dal punto di vista del prodotto interno l'urdo che cosa vediamo vediamo che gli Stati Uniti e la Cina sono certamente delle potenze se proviamo a confrontare il PIL della Federazione Russa il PIL della Federazione Russa pre-Covid era circa l'undicesimo e il dodicesimo paese al mondo quindi la Russia possiamo tranquillamente dire sulla dimensione economica non è non è una potenza andiamo avanti il PIL PRO CAPITA il PIL PRO CAPITA dà un'idea molto molto come voi sapete ormai meglio di me molto grossolana del livello di benessere individuale perché poi un indice magari che riesce a dare conto di una disuguadranza è l'indice di Gini e vedete che c'è una grande differenza tra potenza economia economia diciamo del blocco occidentale in primis gli Stati Uniti rispetto alle altre due potenze contendenti che sono Federazione Russa e Cina nella slide 7 vediamo facciamo uno zoom sul debito e anche questo pre-pandemico il debito un po' di pandemia la prende perché era alla fine del 20 la Russia è uno Stato molto poco indebitato circa il 22% del PIL e in termini assoluti anche basso di questo 22% di PIL un terzo è debito estero se guardate ad esempio Cina e Stati Uniti la Cina pre-pandemia ha un indebitamento del circa 57% e gli Stati Uniti del 162% la fonte di questi dati è l'IMF che ha un bel un bel database che è anche in grado di generare tutta una serie di grafici in tempi brevissimi che io quindi vi consiglio il il database dell'IMF quindi una cosa per chiedere questi sono quindi elaborazioni sul sito di IMF su fonte OECD perché qui allora questo allora l'ho preso dall'OECD quelli sopra sono IMF scusate ok ok no era giusto per dire quindi questi invece di questa slide invece sono ok ok scusatemi erano quelli sopra che erano IMF comunque io vi considero soprattutto sul debito il sito dell'IMF e quindi questo è la Russia un paese quindi con un PIL a circa dodicesimo posto è un paese che ha poco debito in valore assoluto e poco debito estero poi sul debito estero si potrebbe impelagare un po' su delle particolarità perché ad esempio spesso viene contato il debito estero come debito detenuto da stranieri in banche straniere o talvolta c'è del debito detenuto da stranieri però in intermediari finanziari interni alla Russia quindi è un conto prendetelo diciamo come in un intorno in un intorno del 30% scegli anche il rapporto che c'è fra debito pubblico e debito estero di modo il debito pubblico è in sé l'indebitamento di uno Stato che quindi è un debito che dovrà ripagare o rifinanziare verso la totalità dei suoi creditori mentre invece il debito estero è un debito detenuto da entità estere e quindi non verso diciamola così si sente spesso dire verso i propri cittadini un paese che è fortemente indebitato verso l'interno quindi verso istituzioni intermediari finanziari verso famiglie è il Giappone il Giappone ha un alto grado un altissimo grado di indebitamento principalmente verso i propri mettiamolo così verso i propri cittadini le proprie imprese le proprie istituzioni finanziarie spero Stefano che è sufficiente proprio per fargli capire che i margini di autonomia di un paese dal punto di vista della finanza pubblica sono maggiori quanto più debito pubblico è in possesso diciamo è nei confronti dei propri cittadini in generale questa cosa è sempre vera in particolare in una condizione come questa dove non esistono solo una dimensione di mercato ed economica da valutare ma anche una dimensione politica una dimensione diciamo geo-economica in cui in cui l'essere dipendenti verso altri paesi può creare una leva di pressione come vedremo ad esempio sul debito russo sui pagamenti degli interessi e dei coupon del proprio debito nell'ultima parte della nostra lezione direi Stefano che possiamo andare avanti perché stiamo scrivendo un po' la carta di identità di uno dei contendenti ma indirettamente anche di un altro grande contendente che sono gli Stati Uniti su varie dimensioni quindi al momento paese con un PIL relativamente basso rispetto a altre grandi potenze livelli di ricchezza individuali misurate con PIL pro capita basse basso indebitamento e questo è una dimensione totalmente apposta rispetto agli Stati Uniti e poi spiegheremo anche perché gli Stati Uniti hanno un grande debito spese militari la fonte è l'Istituto Internazionale per gli Studi Strategici che cosa ci dice che la Russia è il quarto paese per spesa militare spesa in valore assoluto non in percentuale del PIL primi sono gli Stati Uniti d'America poi c'è la Cina poi c'è l'Arabia Saudita e poi c'è la Russia quindi economia un PIL non elevato ma un alto livello assoluto di spese militari da dove dove raccoglie cioè cerchiamo di fare il sunutum su quella che è l'economia l'economia russa e anche comparandola con Cina e Stati Uniti e in particolar modo guardiamo alla slide 9 la il conto corrente della bilanza dei pagamenti che cosa misura il conto corrente in diciamo in maniera semplificata le esportazioni meno le importazioni c'è ovviamente anche altro però per il discorso che facciamo adesso questi sono dati della Fed del database della Fed della Federal Reserve americana che ci dà il conto corrente abbiamo gli Stati Uniti che sono uno Stato strutturalmente in deficit che cosa vuol dire? vuol dire che gli americani tendenzialmente consumano molto più di quello che producono questo è ed è un qualcosa di strutturale poi vedete il grafico comincia nel 94 95 arriviamo nel 2020 cui gli Stati Uniti strutturalmente hanno consumato all'interno della loro economia di più di quello che hanno prodotto al contrario invece Cina e Russia con delle differenze notevoli perché la Russia è uno Stato e avremo subito poi un approfondimento in cui le esportazioni principali sono di materie prime al contrario la Cina produce di tutto e prodotti manufatti di tecnologia e le esporta agli Stati Uniti principalmente esporta tanti ma principale importatore dalla Cina i prodotti lavorati e semilavorati e di tecnologia sono gli Stati Uniti mentre la Russia vende più di quello che consuma e esporta principalmente materie prime nella slide successiva facciamo appunto uno zoom uno zoom di quelle che sono le esportazioni della Russia i paesi verso cui le esporta e quindi vediamo che la Russia esporta principalmente derivati del petrolio petrolio carbone gas e cereali quindi proprio commodities questo è ciò che esporta a noi in Europa in Cina e anche in Turchia questi sono vedete sotto al valore prepandemico i cinque i cinque principali importatori dalla Russia che sono Cina Olanda Germania Bielorussia e Turchia nella slide successiva vediamo che cosa importa invece la Russia quindi producono estraggono più corretto dire così materie prime producono cereali e dall'altra parte hanno bisogno perché non vengono prodotti internamente e il settore industriale russo da questo punto di vista non è mai stato non è mai stato all'avanguardia certamente e parliamo di importazioni di apparati per la telefonia medicinali automobili aeroplani e diciamo parti di accessori di elaborazione di dati automatica quindi esporta materie prime e importa invece bene l'alto contenuto tecnologico che servono nella produzione che servono nel spostamento e soprattutto medicinali perché non hanno un'industria chimica avanzata quali sono i principali paesi da cui importa Cina Germania Bielorussia Stati Uniti e Italia e questo ovviamente quando introdurremo il tema delle sanzioni vedremo che ovviamente i paesi che esportano verso la Russia vengono colpiti maggiormente dalle sanzioni se c'è un paese che è abbastanza indipendente dell'area Russia quello che succederà in termini di caduta del PIL o di sanzioni di chiusura della frontiera di inserimento di tariffe verranno colpiti meno per concludere un po' un paio due o tre slide per concludere questa carrellata per fare un po' un identikit di chi è la Russia che cosa esporta anche la Russia che non sono nei primi nei prime cinque tip generi di esportazione nella slide 12 vediamo che la Russia è il secondo esportatore mondiale di armi e quindi mentre invece gli Stati Uniti sono il primo nelle prossime due slide vedremo anche completeremo l'analisi vedendo che la Russia è un come abbiamo detto un grande esportatore di materie prime che gli europei sono principali importatori e alla slide 13 si vede i livelli i livelli paese per paese di dipendenza ovviamente ci sono ci sono paesi come la Repubblica Ceca che hanno una prossimità territoriale che devono importare il 100% del graso che importano lo importano dalla Russia voi capite che per questi paesi Repubblica Ceca Lettonia ma anche paesi ovviamente come la Germania che importano più del 60% del loro fabbisogno questa crisi rischia di essere una crisi strutturale che può creare che può produrre diciamo delle recessioni non non leggere nella slide slide 14 che mi dice che voi non vedete o riuscite a vederla quella non solo gas percentuale di importazioni di materie prime dalla Russia si 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 vede ah voi la vedete perché nella presentazione avevo un minimo cancellata e questo vedete al di là di petrolio e gas ci sono tutta una materia una serie di commodity un portafoglio di commodities fondamentali nella produzione che noi importiamo dalla Russia il palladio il vanadio l'alluminio il nickel fino al carbone fino al carboncock dove nel Donbass ci sono ci sono tante miniere sono i principali i principali tipi di commodities che noi servono e che importiamo dalla Russia quindi per chiudere questa prima parte che cosa ci possiamo dire ci possiamo dire che è una potenza economica la Russia no su questa dimensione su dimensione pil e capacità di produzione industriale possiamo dire che la Russia non è una potenza però che cosa abbiamo visto che sono armati fino ai denti che se le producono e hanno anche una grande produzione interna di armi che hanno un potere di pressione e di ricatto enorme dal punto di vista delle commodities e ci possiamo anche aggiungere che è una potenza nucleare oltre che è una dimensione geopolitica e strategica fondamentale e il più grande il più vasto stato al mondo quindi questa è un po' una presentazione di chi è di chi è lo stato che si è imprecato in una tensione con nello specifico con l'Ucraina dal 2014 in avanti e con tutto il blocco occidentale perché di questo stiamo parlando l'oggetto della nostra lezione nella slide 15 volevo aggiungere una cosa secondo me va anche sottolineato il fatto che non è un partner commerciale anche dal punto di vista delle importazioni trascurabile ah certo perché comunque per la produzione per tutti i paesi che importano materie prime per la produzione non possiamo che dipendere e tutti i piani di transizione energetica avranno bisogno di del tempo ma non solo dal punto di vista della dipendenza energetica dei paesi esteri dalla Russia ma anche dal punto di vista del quantitativo di importazioni della Russia nei confronti di un paese come la Germania o quello come l'Italia cioè il nostro settore manifatturiero soprattutto per ciò che riguarda automobili e aeromobili perderebbe un partner che ha un suo peso nel momento in cui riduciamo i rapporti commerciali con un paese del genere sì perché viene meno per noi una domanda di bene che produciamo e come vedremo tra poco gli economisti hanno cercato anche di quantificare i danni e sicuramente per il periodo pre 2024 ancora non ci sono dei dati attendibili per capire nel post 24 febbraio 2024 qual è il livello di impatto sicuramente molto maggiore sicuramente molto maggiore e quindi entriamo un po' a introdurre il tema delle sanzioni una breve cronistoria delle date importanti per lo scopo di questo conflitto e poi entreremo a quantificare o comunque farci un'idea di quelle che sono state le sanzioni in generale una sanzione le sanzioni come vedete nella definizione della slide 15 possono essere considerate come misure di restrizione o di blocco dei rapporti economici commerciali da parte di più paesi verso un altro ritenuto colpevole di una violazione del diritto internazionale questa è proprio una definizione da manuale gli obiettivi però delle sanzioni questi più importanti sono due in primo luogo rendere oneroso un determinato comportamento della serie lo fai e devi pagare ma il compimento della sanzione è l'idea che il soggetto sanzionato smette di fare il comportamento per cui si è beccato la sanzione e le sanzioni possono essere diciamo comitate da chi? dalle organizzazioni internazionali anche da stati singoli e verso chi? verso determinati soggetti ad esempio la Russia è stata sanzionata dagli Stati Uniti diciamo dal blocco occidentale nel 2004 quando sono iniziate le tensioni in Ucraina e quando la Crimea è stata e si è resta indipendente la Corea del Nord è stata sanzionata dall'ONU per il suo programma nucleare ai tempi Sudafrica venne sanzionato per i regimi d'apartheid tra gente di colore e in generale possono essere persone abbiamo visto i collaboratori di Putin imprese trovate nella slide una marea di imprese importanti nel settore soprattutto energetico e agricolo che sono state sanzionate dopo il 2014 russe ma anche attività possono essere sanzionate Obama quando si sono stati dei cyberattacchi o a istituzioni americane o convorgimento dei famosi hacker russi però nessuno è stato mai trovato Obama ha posto delle sanzioni su le entità responsabili di attacchi informatici quindi questa è una sanzione nuova quando guardate i rimi delle sanzioni diciamo che ripercorrono un po' la storia durante le guerre la sanzione a entità è un qualcosa abbastanza recente nella slide 16 che cosa proviamo a dare un attimo una brevissima storia e qualcosa che diciamo i conflitti e le tensioni tra i russi e gli ucraini provengono da lontano però noi che cosa in un passato recente quindi dal 2004 iniziano a diventare palesi tutta una serie tutta una serie di tensioni nel 2004 abbiamo la rivoluzione arancione e per semplificare dividiamo i blocchi delle elezioni come filo russi e filo e filo europei filo occidentali o anche solo talvolta antirussi nel 2004 il presidente Kuchman finisce il suo mandato Kuchman era un filo russo e si va all'elezione vince il suo il suo delfino che era Viktor Yanukovic e Yanukovic vince però viene accusato di brogdi dall'opposizione sono tutti dei passaggi istituzionali si rivolta e vincerà il filo europeo Viktor Yuschenko magari no una volta mi dico in fondo Yuschenko che magari voi avete visto perché poveretto poi è stato avvelenato è stato avvelenato dai russi con la diossina è riuscito a sopravvivere ma è una una persona che ha una faccia sfigurata Yuschenko fa il presidente traino fino al 2010 quando poi ci sono delle nuove elezioni ma siccome visto che Yuschenko non riesce a eliminare la corruzione anche dei risultati abbastanza deludenti dal punto di vista economico rivince il filo russo Yanukovic alle elezioni con Yulia Timoschenko che è un personaggio abbastanza noto e quindi queste elezioni il paese ha una torsione un ritorno diciamo una vicinanza verso la Russia se si era iniziato un percorso di avvicinamento verso Europa che però non ha un grande successo diciamo gli ucraini decidono decidono di ritornare un po' più vicino a Mosca questo succede fino al 2013 2014 quando in particolar modo anche Yanukovic prova a avvicinarsi all'Europa ma l'Europa gli pone per entrare in Europa una serie di condizioni economiche stringenti e poi sai com'è hanno chiesto a Yanukovic di liberare Yulia Timoschenko che nel frattempo era stata imprigionata queste sono un po' diciamo delle tecniche che da quelle parti usano che però avvelenare gli oppositori mettere in galera e ci dà anche l'idea che non ci stiamo parlando di regimi democratici compiuti anche lo stesso dopo i tumulti del 2014 arriverà un presidente filo europeo che si chiama Poroschenko e anche lui cercherà di imprigionare gli oppositori quindi insomma un contesto istituzionale molto fragile e nel 2013 dopo che l'Europa rifiuta o comunque pone delle condizioni che Yanukovic non vuole accettare che cosa succede succede che lui cerca di rafforzare i legami con Mosca e questo fa scoppiare quelle che sono quella che è la seconda rivoluzione anciona prima quella del 2004 che aveva riportato a elezioni e la seconda è la rivoluzione del del 2014 ci sono scontri molto pesanti anche dei fatti molto tradici strage di Odessa è un qualcosa di emblematico dove diciamo i filo europei di ultradestra nazionalisti di ultradestra ucraini hanno anche bruciato vivi una quarantina di persone quindi è un momento molto molto di grande tensione all'interno all'interno del paese e che ha degli effetti abbastanza tradici per esempio una parte del territorio ucraino si dichiara indipendente con le truppe russe il giorno di questa pseudo votazione ovviamente non riconosciuta da nessuno e di indipendenza dell'Ucraina e inizia una guerra del Donbass la guerra del Donbass nei territori che ormai siamo abituati a conoscere perché li vediamo in televisione dal 14 a prima della dell'invasione del 24 febbraio è comunque una guerra che produce da una parte dell'altra da una parte filorussa che cerca un'indipendenza e la parte invece filoucraina che vuole tenere nel loro paese e quella parte di territorio 15.000 morti quindi noi nessuno di noi se ne occupava non c'era un media che ne parlava di questa cosa però in quella parte di territorio quella parte che noi adesso consideriamo praticamente il nostro giardino di casa ci sono stati 15.000 morti in quelle tensioni sul Donbass nel Donbass la Russia che supportava la parte filorussa in maniera militare e logistico e economico viene colpita da sanzioni sanzioni dagli europei e dagli americani in questo modo sanzioni di tipo di restrizione alle importazioni di diciamo limitazione all'accesso del mercato dei capitali da parte delle banche russe di restrizione sui movimenti di pagamento provvedimenti a persona su oligarchi o persone vicine al governo russo e soprattutto importante anche sanzioni l'impedimento a imprese europee di collaborare nell'estrazione e nella lavorazione delle materie prima con in Russia e questa è una cosa fondamentale perché i russi hanno le materie prima però non sono in grado di lavorarle di estrarre il sole e questo è un qualcosa anche che sull'offerta di gas e petrolio nel futuro prossimo se questo livello di sanzioni durerà creerà una riduzione di offerta a livello globale a meno che i cinesi non siano in grado di fornire competenze e tecnologia ma non sembrano ancora attrezzati a questo livello per sostenere l'estrazione e la produzione di combustibili fossili in Russia e quindi inizia che stai riferendo ai macchinari necessari macchinari copri ai processi di impiego e controllo dei macchinari già esistenti allora know-how e avere i macchinari per farlo e sapere come si usano questa cosa sul sapere come si usano c'è una dipendenza da strutture estere nel senso che i team di persone che vanno che vanno ad intervenire sul macchinario sono le imprese estere che operano in Russia in gran parte sì questo e questo è un qualcosa di 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 problematico ovviamente e sono stati colpiti da sanzioni proprio per questo motivo perché avranno un impatto a lungo termine se adesso è proprio impossibile farlo prima c'erano delle limitazioni e quindi andiamo arriviamo alle sanzioni pre-invasione come abbiamo detto su un ampio raggio di dimensioni economiche e che effetti hanno ci sono degli studi io qui ho raccolto un po' di anche di metanalisi o comunque di studi un po' mirati sulle sanzioni in seguito all'invasione dell'Ucraina che cosa vediamo che in generale per quanto riguarda il PIL c'è stata una caduta negli anni successivi alla alla crisi di circa lo 0,5 l'1,5% io poi qui vedete 2014 2018 perché qui ho sbagliato ho sbagliato probabilmente l'anno della pubblicazione deve essere un anno del 18 comunque si ha questa lentità da 0,5 1,5 del PIL ci sono state delle evidenze che però scusa Lucio potrebbe anche darsi che Omel 5 e Krusta ieri nel 2016 fanno un modello in cui simulano l'impatto delle sanzioni tra il 2014 fino al 2018 no lì secondo me c'è un errore nella data o magari che quello era un working paper e poi è stato pubblicato ma adesso lì approfondisco poi ve le correggo e te le mando per me la cosa poi poi altre evidenze indicano che cosa indicano che c'è stato un effetto non solo delle sanzioni sulle imprese che esportavano le imprese internazionali ma che c'è stato un effetto anche di sulle imprese che non erano direttamente colpite da da sanzioni quindi ci sono creati diciamo dei problemi in generale col settore delle esportazioni russe le imprese sono state penalizzate anche se non direttamente colpite da sanzioni altro studio che mi era piaciuto perché provo a darci una quantificare gli effetti anche per i paesi o che stanno vicini o che avevano combinato le sanzioni per esempio che cosa ci dice lo studio del 2020 ci dice che se ad esempio se noi facciamo un'ipotesi che il pil russo si riduca del 9% i paesi nella fascia i paesi ex CSI ma parliamo i paesi di confine con la Russia perdono circa 6,5 e i paesi come i paesi della comunità europea come l'Italia di circa 2% questi sono dati in media però da un'idea da un'idea che per un punto di pil russo nelle aree confinanti si perde circa 0,72 e per noi da noi si perde circa 0,20 quindi questo per dare una dimensione che è sempre un gioco quello della sanzione dove anche il sanzionante ha delle perdite e perché in quel caso non siamo più in una in termini di ragionamenti economici l'economia entra però il tema principale è fare creare un danno all'avversario se io ho meno danno dell'avversario la sanzione ha un senso e sanzioni di tipo di tipo finanziario uno a del da diciamo da un paio di mesi siamo anche ormai abituati a sentire sanzioni finanziarie del tipo la sconnessione dal sistema SWIFT o il blocco di circuiti di pagamenti questa cosa e questa cosa inizia inizia nel 2014 quando ad esempio le imprese americane Visa e Mastercard dei circuiti di pagamenti con carta decidono di escludere alcune banche russe e questo che è un problema perché perché non potendo effettuare pagamenti in quel sistema diciamo che non sono più in grado anche di commerciare utilizzando il sistema di pagamenti qual è la risposta della banca centrale russa immediata è quello di sviluppare un proprio sistema di pagamento di nome Mir Mir vuol dire il russo mondo e che ad oggi intermedia circa il 25% delle transazioni nazionali con carta e Mir si usa per pagare gli stipendi in carte Mir e le pensioni e questo è il motivo per cui nel giorno di poco ha già e immagino in questi giorni sarà stata incrementata la percentuale perché ormai passerà tutto ed esclusivamente per Mir visto che non ci sono più i contatti usuali con l'estero e il sistema è stato totalmente sconnesso e Swift che cos'è? Swift è un'impresa che permette tramite dei messaggi tra banche di effettuare pagamenti trasfrontalieri quindi pagamenti internazionali e Swift avremo anche una slide dedicata a Swift è un'impresa che nasce da un consorzio di banche nel 77 ed era fino al 14 il monopolista sui pagamenti bonifici internazionali che cosa succede nel 14 che alcune banche vengono sanzionate e quindi esclusa dal sistema Swift in risposta è perché la storia delle sanzioni è sempre tu colpisci me e io rispondo cercando di colpire te quindi darti una contro o una contro sanzione ma anche producendo tutta una serie di la sanzione produce all'interno del sistema sanzionato dei meccanismi per resistere alla sanzione in questo caso i russi che cosa costruiscono? un sistema simile a Swift che si chiama SPFS attualmente in uso anzi sicuramente è diventato anch'esso un sistema principale per lo Swift russo tra cui tutte le banche che operavano in Russia come Deutsche Bank e Unicredit dovevano per sviluppare il loro business dovevano essere attaccati quindi queste sono le prime sanzioni altri effetti delle prime sanzioni c'è un crollo del rubro lo vedete tra il 14 e il 15 c'è la prima grande oscillazione e poi in generale un crollo del rubro un andamento decrescente del rubro fino al 24 di febbraio del 22 in cui c'è proprio il crollo e ci ritorneremo per capire come poi i russi hanno risposto a questo a questo crollo un altro effetto delle sanzioni pre Lucia Lucio qui ecco vorrei un attimo porre un problema che è un problema secondo me interessante allora quando si parla degli effetti sul mercato valutario di una sanzione fondamentalmente si sta ragionando sul fatto che la moneta di un determinato paese come in questo caso è la Russia non viene più tenuta a riserva dai sistemi bancari esterni perché è come se fosse una conseguenza logica della riduzione dell'interscambio commerciale per cui io metto in vendita questa moneta e il fatto di avere un'offerta valutaria maggiore rispetto alla domanda di questa valuta sul mercato internazionale valutario fa sì che si perda il valore di questa moneta ora perché però questo tipo di azione non sia semplicemente uno shock istantaneo ma abbia delle conseguenze reali significa che questo paese diventa isolato dall'intera comunità internazionale altrimenti semplicemente io sto dando l'incentivo a cambiare i propri partner commerciali e a utilizzare quindi la propria valuta in un modo diverso e a creare quindi delle condizioni affinché si ripristini un equilibrio fra offerta di valuta e domanda di valuta sulla piazza internazionale per cui volevo sapere cosa ne pensavi della tanto dell'attenzione che si è data a questa perdita di valore del rubro da parte della nostra opinione pubblica perché a me è parsa diciamo una informazione come dire su cui ci si è immediatamente concentrati senza però tenere realmente in considerazione della persistenza di un'operazione di questo tipo e quindi anche delle conseguenze sul piano del cambiamento del interscambio commerciale che questa manovra avrebbe determinato alla luce del fatto che chiaramente il paese che subiva questo tipo di sanzione avrebbe reagito a quel punto sì allora l'effetto magari anche per i ragazzi l'effetto di una sanzione di questo tipo svalutando per il meccanismo che diceva Stefano il professor Lucarelli la moneta il rubro rende le importazioni più costose in termini reali che cosa vuol dire che crea a basso il livello di vita a parità di altre condizioni dei cittadini russi rende più costose quelle merci che vengono acquistate sì e che vengono quindi pagate in valuta straniera e quindi ci siamo detti prima sono automobili medicinali tutti i processi per la telefonia d'altro canto è pur vero che renderebbe le esportazioni più convenienti più convenienti ma stiamo parlando di esportazioni poco elastiche nel senso non è che l'Europa consumasse domandasse più gas perché costava un po' meno io la vedo così diciamo quantitativo non hanno avuto dei grandi benefici da questa ma no attenzione non li hanno avuti perché non abbiamo voluto avere questi benefici rivedendo i contratti futuri pagando i rubli perché abbiamo deciso di rendere credibile la sanzione e pretendendo di pagare il gas non in rubli deprezzati ma in in dollari va bene va bene sono d'accordo ma questo non significa che se essendo un bene a domanda rigida ok questo non significa che altri paesi al mondo che non rientrano nell'insieme dei sanzionatori non avranno convenienza a stilare in questo momento contratti di fornitura futura pagando i rubli in special modo la Cina il che significa che l'effetto della sanzione è tutto da valutare certo 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 è un trade off un trade off cioè sono d'accordo sono d'accordo credo che messa come la sto mettendo io il costo della sanzione in questo caso è pagato di più dal sanzionatore che dal sanzionato questa è la mia tesi però poi è che deve essere verificata empiricamente sì accelero un attimo mi sentite? sì sì ok accelero un attimo perché vedo che stiamo andando un po' lunghi altri effetti delle sanzioni pre-invasione problemi sul mercato interbancario ovvero un aumento del costo del denaro i mercati internazionali hanno iniziato a percepire come rischioso i vestimenti in Russia e hanno alzato il costo implicito del denaro poi le banche internamente si scambiano della liquidità e questa liquidità è iniziato a costare circa il 17% subito dopo l'invasione della Crimea invasione della nessione della Crimea e questa cosa come vedete siamo passati da un livello di circa il 6% al 17% che effetti a un aumento del tasso interbancario è un aumento del costo del credito alle imprese e questa crea quindi una stretta creditizia e una riduzione della ce vale inizialmente il modello che generalmente voi studiate a lezione un modello neoclassico o neocanesiano che avrà una trasmissione sul mercato del credito e quindi una riduzione del PIL dopo il 15% è stata una normalizzazione ai livelli pre sanzioni del 14% per poi avere un aumento vertiginoso dopo l'invasione del 24 febbraio altri effetti il sistema finanziario russo ha iniziato ha iniziato a vedere una fuga una fuga di capitali dal dal 2014 e gli istituti finanziari in generale qui vedete un grafico che vi indica che cosa che vi indica il valore il valore dei prestiti da paesi come Stati Uniti e Giappone e gli altri al sistema finanziario il sistema finanziario russo e come vedete il 14% è comunque uno spartiacque tanti capitali iniziano iniziano a fuggire fuggire dalla Russia e questo ha inevitabile implicazioni sugli investimenti e l'altra parte della medaglia di investimenti diretti e di credito all'economia è importante che questo fenomeno per quanto riguarda il nostro paese sia molto più piccolo rispetto agli altri esatto esatto da adesso in avanti siamo alla slide 22 comincia cominciano le sanzioni post-invasione qui entriamo nel mondo post-24 febbraio e le prime e più eclatanti sanzioni che cosa sono state la disconnessione del sistema finanziario russo dal sistema swift avevamo visto che se dopo il 2014 c'erano state alcune alcune banche che hanno state sanzionate alcuni soggetti diciamo intermediari finanziari che hanno stati sanzionati da adesso in avanti il sistema finanziario russo è stato disconnesso questo cosa vorrà dire che si saranno spostate tutte le transazioni alcune transazioni sono proprio perse perché si è interrotto il commercio che non fosse proprio di gas ma è impossibile per intermediari finanziari in Russia effettuare pagamenti verso paesi che utilizzano euro o anche paesi che utilizzano dollari perché le sanzioni che combinano gli Stati Uniti che gli Stati Uniti indicano verso alcuni paesi sono applicabili a tutti i dollari che girano per il mondo gli Stati Uniti quando danno una sanzione di un altro paese tutti i dollari al mondo devono rispettare la sanzione l'altra grande grande sanzione senza precedenti ed è che qui magari ognuno si parrà l'idea che si vorrà fare per me è il punto di non ritorno del sistema finanziario mondiale ovvero il congelamento delle riserve della banca centrale russa ma procediamo in ordine che cos'è lo SWIFT lo SWIFT è come si diceva un sistema per l'invio e la ricezione di messaggi di pagamenti e di transazioni nel sistema finanziario ovvero una banca vuole pagare un'altra banca di un altro Stato utilizza SWIFT per poter in maniera veloce e sicura inviare questi messaggi e fare in modo che poi le banche possano verificare chi invia la transazione una transazione sicura e effettuare questo pagamento quindi SWIFT nel 77 inizia questo business entra in questo business e già dagli anni 90 è il monopolista vedremo nella prossima slide un po' il tasso di crescita dell'utilizzo nei vari sistemi bancari ma è veramente esponenziale su lui è un'impresa privata e SWIFT fa il suo lavoro senza alcun problema fino al 2001 nel 2001 c'è stato a collettore gemelle il governo americano chiede a SWIFT di dargli i dati di tutti i pagamenti internazionali di accedere al network dei pagamenti di SWIFT che è un'impresa privata che dovrebbe assolutamente dare per privacy questi dati però il governo degli Stati Uniti appunto date le pressioni che può esercitare su SWIFT per tutta una serie di motivazioni tra cui quella che i dollari diciamo che la legislazione americana potrebbe imporre delle limitazioni ai dollari americani di passare per SWIFT o così ho detto in maniera un po' generica che cosa succede che gli americani la CIA e le FBI possono avere accesso ai dati SWIFT per la sicurezza nazionale nessuno al mondo lo sapeva questa cosa verrà noto in seguito però questo è un po' l'idea che un sistema di pagamento che è un qualcosa di neutro inizia a diventare una fonte di informazioni in questo caso per il governo degli Stati Uniti e un uso più politico del sistema dei pagamenti viene fatto nel 2012 quando il sistema bancario iraniano viene disconnesso da SWIFT viene disconnesso perché stava implementando un programma nucleare che non era che non aveva la benevolenza della comunità internazionale e in particolar modo degli Stati Uniti nel 2015 fino al 2015 e dal 2012 al 2015 il sistema bancario iraniano è sconnesso nel 2018 Trump rompe l'accordo perché il sistema iraniano viene riconnesso allo SWIFT quando abbandona il programma nucleare nel 2018 Trump anche se gli iraniani non hanno ricominciato il loro programma nucleare decide di ridisconnettere ridisconnettere lo SWIFT l'Unione Europea dice no perché dobbiamo fare questa cosa che comunque loro sono stati ai patti e dicono non è giusto non è giusto ma SWIFT comunque di questo insomma di quello che pensano gli europei se ne è relativamente fregato e disconnette nuovamente l'Iran dallo SWIFT l'Europa prova a costruire un proprio sistema di pagamenti che si chiama INSTEC per commerciare con l'Iran ma nessuna impresa ci entra perché perché gli americani hanno messo in chiaro di tondo che chiunque violi le sanzioni e quindi il fatto di commerciare con l'Iran sarà soggetto a sua volta a sanzioni e quindi nessuna impresa se tutte le imprese sono ben guardate di entrare nel sistema europeo il sistema INSTEC non è mai stato usato se non per mandare gli aiuti durante il covid agli iraniani questo è un esempio per dire che cosa per dire che la potenza di di disconnettere un stato dal sistema dei pagamenti anche solo la minaccia a chiunque chiunque voglia commerciare con un paese soggetto a sanzioni è un'arma potentissima è un'arma che dal punto di vista economico quindi due dimensioni diverse può essere paragonata a un bombardamento e quindi questo problema cioè chiunque venga sanzionato sul sistema dei pagamenti viene isolato dal mondo e abbiamo detto che i russi si sono fatti un sistema analogo che si chiama SPFS e anche i cinesi hanno iniziato hanno iniziato a farsi un loro sistema di pagamenti che si chiama CHIPS mi raccomando non mettete la H tra la I e la C perché il CHIPS con la H è un altro sistema di pagamenti di una clearinghouse americana quindi questo per dare un'idea che Swift che era una società privata si trova ad un certo punto a essere un'arma il sistema dei pagamenti non è più un qualcosa di neutro ma diventa un qualcosa di altamente utilizzabile da parte di uno o più governi contro degli altri questo avrà delle implicazioni perché se noi pensavamo che la dimensione economica fosse una dimensione neutra capiamo che da adesso in poi non sarà più così la prima cosa sottolineo che esattamente questo è l'aspetto della tua lezione su cui invitavo a porre l'attenzione all'inizio della mia presentazione proprio le infrastrutture necessarie che si possa poi costruire anche un ragionamento di politica monetaria e di trasmissione delle decisioni di politica monetaria all'economia reale l'altra cosa che voglio dire è che tu ci hai raccontato delle conseguenze terribili sul versante diciamo dell'economia reale di una sospensione dal circuito swift però è del tutto evidente che questo tipo di conseguenze sono diverse a seconda di quanto il commercio attraverso lo scambio di carta moneta o di modalità che non passano per swift viene effettuato perché faccio questo appunto perché credo che per esempio la Cina nelle sue relazioni commerciali con i paesi diciamo medio orientali tra cui l'Iran continua ad utilizzare modalità di scambio in cui i pagamenti avvengono attraverso carta moneta anche approfittando del fatto che stia controllando sempre di più le tratte marittime che dalla Cina si spostano verso il canale di Suez Sì questa cosa è vera però la fa passare per il Cips adesso fino a poco tempo fa non aveva un mezzo per far sì che i pagamenti fossero indipendenti dal Swift adesso hanno iniziato un mezzo per rendere più diciamo semplice il trasferimento monetario senza passare per la carta moneta certo anche per una parte terza certamente guarda Stefano inizio a volare perché siamo già andati lunghi ma Lucio tu ci devi abbandonare? no no io non volevo abusare dei poveri no questo è un tema di così tanta rilevanza e importanza che vorrei anche che fosse un oggetto di dialogo me lo mettete voi il freno tranquilli quindi andiamo avanti passiamo la slide che fa vedere quanto lo Swift nel tempo sia diventato un monopolista e arriviamo alle riserve della banca centrale russa voi sapete che diciamo delle riserve di una banca centrale servono tali appunto sono delle riserve nel caso ci fossero dei problemi problemi che costituerebbero una banca centrale a dover stabilizzare il valore della della propria moneta dopo il 2014 e le sanzioni la Russia ha iniziato a dire se noi vogliamo fare la nostra politica potremmo andare incontro a sanzioni gravi e quindi dobbiamo essere in grado di proteggere il nostro tasso di cambio e e quindi che cosa succede che la Russia dal 15 al comunque al 24 di febbraio del 22 inizia ad ammassare riserve inizia ad ammassare una quantità di riserve notevoli e nella slide 26 ricordiamoci anche che questo è diciamo estremamente coerente con i surplus commerciali che ha maturato la Russia che avevi mostrato prima esatto esatto nella slide 26 invece vediamo dove le allocate queste riserve prima al 24 di febbraio la Russia aveva il 32 del virgola 3 per cento delle riserve allocate in asset denominati in euro il 21 virgola 7 per cento in oro il 16 per cento in dollari ecco l'altra cosa importante il 13 virgola 1 per cento in yuan perché perché è importante guardare la distribuzione del portafoglio di riserve della banca centrale e i russi hanno cercato in questi anni di e anche rendersi indipendenti rispetto al dollaro visto che comunque la moneta di un paese è per loro ostile perché l'idea è sai mai che gli americani provino a congelare qualche riserva come hanno fatto con gli iraniani anche se diciamo questa sarebbe stata una mossa così grande che non si è mai vista nella storia nella storia del capitalismo che cosa succede invece che sia gli americani che l'Unione Europea che cosa decidono decidono di congelare le riserve russe ovvero queste riserve in euro che comunque sono detenute in banca centrale o in intermediari finanziari di altri paesi in banche in banche che sono in America o in Europa e tutti gli asset in dollari quindi praticamente quasi il 50% delle riserve russe sono state congelate e questo stiamo dicendo appunto ti stiamo riferendo appunto al 32,3% più il 16,4% esattamente più anche le sterline in alto che vedete e quindi che cosa credo sia un 6,5% sì sì che cosa che cosa vuol dire una sanzione di questo tipo mina mina il concetto di riserva una riserva uno la appunto la mette a riserva perché quando ne ha bisogno ne posso usufruire il congelamento della riserva fa sì che rende che rende insicuri da oggi in avanti gli asset in euro e in dollari per i paesi che pensano di poter avere anche solo una diciamo delle relazioni non serene con gli Stati Uniti d'America e con l'Europa e questa è come vedremo tra poco è un problema enorme per il sistema finanziario internazionale non si era mai visto per paesi per economie rilevanti ed è stato un atto totalmente inedito che cosa succede che cosa succede che il rublo inizia a perdere di valore proprio perché l'idea che lui potesse usare le riserve per coprire il valore è salta e in quei giorni cominciano anche ad aumentare il valore slide 27 di criptovalute ovvero di mezzi di pagamento che permettano di trasferire valore in altre economie o di ottenere o anche solo di procurarsi di procurarsi beni poi da un giorno all'altro non è creato un problema però per dare un'idea di quella che è stata la percezione c'è stato un aumento del prezzo del bitcoin in quei giorni molto alto molto di valore di circa il 23% che poi è rientrato però in quel giorno lo shock c'è stato o come vediamo alla slide 28 un aumento nel valore di un'altra di uno stable coins che si chiama teaser e quindi questo che cosa ci indica la slide 28 mi dice il volume delle transazioni non mi dice il valore dovrebbe esserci il volume delle transazioni ok per cui c'è un volume che è aumentato che è aumentata la che è aumentata la la conversione tra rubli e criptovaluta e poi tra questo che cosa ci indica ci indica che inizia a scappare dal rublo vuole avere delle criptovalute perché la criptovaluta può essere un mezzo di pagamento che aggira la sanzione e quindi queste sono gli scambi rublo bitcoin e rublo usd esatto e tu dici vabbè questo però potrebbe questa cosa qui significa che nel momento in cui cresce lo scambio dovrebbe crescere anche il prezzo del bitcoin perché c'è una domanda crescente ma poi una dinamica che si è andata è andata a calare anche perché i portafogli che gestiscono le imprese che gestiscono questi portafogli di criptovalute è stato intimato di far rispettare le sanzioni quindi non abbiamo ad oggi una dinamica di crescita dei prezzi delle criptovalute in maniera esponenziale quindi possiamo dire che questo sì però nel momento in cui tu le hai accumulate le spendi e le spendi sul mercato reale questo non ha implicazioni sul prezzo perché la criptovaluta in realtà viene diciamo ad avere ad essere prezzata sul mercato valutario laddove le valute sono scambiate in criptovalute nel momento in cui però io la criptovaluta l'ho accumulata semplicemente sulla piattaforma della criptovaluta stessa che non gira su swift e che nessuno può controllare posso utilizzarla per acquistare bene i servizi da coloro che mi accettano la criptovaluta esattamente per cui questa cosa qui noi dovremmo cioè io ipotizzo anche se è difficile reperire dati sull'uso del bitcoin o di altre criptovalute per scopi transattivi io credo che se andiamo a vedere quei dati che sono dati che possiamo vedere piattaforma per piattaforma ma anche quando li andiamo a vedere piattaforma per piattaforma non esauriamo l'insieme delle piattaforme io credo che noi andiamo a vedere lì invece un effetto gradino dal quale non si scende però magari come riserva di valore per tenerli lì non per fare poi scambi sì certo potrebbe però in una situazione del genere essere un esserci un incremento dell'uso della criptovaluta non per scopi speculativi ma per scopi transattivi la criptovaluta nasce per scopi transattivi come esperimento proprio per smarcarsi dal controllo delle banche centrali che dai governi sono gli ambienti agliecchiani che esatto gli anarco gli anarco liberisti delle valute e quindi che cosa abbiamo visto in queste 4-5 slide che le riserve non sono più accessibili il valore della moneta russa pertanto è molto vulnerabile e tra poco rivediamo l'andamento del tasso di cambio post sanzioni e il concetto stesso di riserva viene totalmente modificato questo è qualcosa che ci porteremo avanti nel tempo fino adesso si accumulava dollari e in generale asset denominati in dollari o in euro pensando che questa cosa fosse sicura da adesso in poi questa dimensione economica vi deve essere comparata con una dimensione geopolitica io devo detenere asset sapendo poi di poterne usufruire quando ne ho bisogno e ne posso usufruire se sono asset denominati in moneta di paesi diciamo amici questa è un qualcosa che non era neanche stata usata durante la guerra fredda un qualcosa di questo tipo e alla slide 29 vediamo una controrisposta immediata della diciamo della della come si chiama dell'economica dell'eAU che è questa associazione di sviluppo economico delle economie euroasiatiche di cui è composta da Armenia Bielorussia Kazakistan Kirghizistan e Russia e attraverso il loro ministro dell'integrazione degli affari economici Sergei Glasev ha proposto una moneta euroasiatica in collaborazione con la Cina l'idea di fare una moneta che sia ancorata non a riserve o asset denominati in euro o in dollari o in altra valuta ma che sia coperta da commodities ovvero da da grano da gas da petrolio ed è un qualcosa che era apparsa nella storia una proposta di avere una moneta coperta da commodities che però è molto difficile attuare perché richiede tanti costi nell'organizzazione e nella gestione di questi stock ovvero di avere una proporzione tra degli stock dei magazzini di materie prime e la moneta che è in circolazione non è invece un qualcosa che nella storia sia stato una novità storica l'avere una moneta coperta da un asset ad esempio l'oro abbiamo avuto dei sistemi monetari gold standard ma anche tanti sistemi monetari precedenti il gold standard era un sistema in cui la proporzione o almeno in maniera teorica in cui la proporzione di moneta in circolazione era fissa rispetto alle quantità di oro e vado subito all'oro per dire che già nel 2009 i cinesi avevano fatto una proposta una proposta simile perché l'oro è importante perché i russi nella loro la banca centrale russa una quota di riserve è in oro per evitare una caduta che vedremo nella prossima slide è stata notevole una caduta libera del rublo che cosa ha deciso di fare ha deciso il 25 di marzo di quest'anno di ripristinare una convertibilità del rublo in oro e ha deciso che un grammo d'oro sarebbe stato equivalente a 5000 rubli e come hanno prezzato come hanno prezzato questa cosa prendendo quello che era il prezzo in dollari di un grammo d'oro ovvero 62 dollari e hanno tirato fuori quello che per loro è il tasso di cambio se voi fate 5000 rubli diviso 62 dollari trovate 80 e se Stefano vai alla slide 30 che cosa vediamo è il valore post conversione post con possibilità di conversione in oro a cui si si è assestati in questo momento dopo lo shock di fine di fine febbraio si vede che il rublo crolla a circa a 150 con un dollaro ci vogliono 150 rubli e piano piano quando quando si è creata si è diciamo decisa una conversione fissa piano piano si è stabilizzato il cambio fino a quel livello di conversione che è circa circa 80 81 e qualcosa e c'è una parte della comunità internazionale che chiaramente sul mercato dell'oro ha considerato ragionevole riportare il valore del rublo a perché sul mercato ci sarebbero stati degli arbitraggi ci sarebbero stati degli speculatori che immediatamente avrebbero iniziato a comprare oro e venderlo in dollari la domanda quindi sarebbe cresciuta e sarebbe stabilizzato stabilizzato questo tipo di 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 o no ti senti Stefano si ti sento ti sento ok no e il meccanismo di arbitraggio del mercato ha fatto sì ha fatto sì che il valore del rublo si si attestasse su quello che era stato il tasso di conversione che la banca centrale russa aveva stabilito per un grammo d'oro e questo per i cittadini russi per il valore della moneta russa anche nei mercati in cui può i russi possono commerciare come ad esempio il cinese ha un valore un valore rilevante avere un cambio di uno proprio quello che ci dicevi prima cioè per il fatto che a questo punto anche il costo delle importazioni dei nuovi fornitori russi pagati in valuta straniera anche in dollari sono assolutamente gestibili dai russi stessi esattamente esattamente chiaramente del fatto che non possano girare questi scambi sulla piattaforma Swift esattamente esattamente se andiamo avanti che cosa che cosa vediamo che nel attualmente le valute e gli asset a riserva le valute a riserva in giro per il mondo sono in stragrande maggioranza detenuti in dollari circa 62% il 20% per quanto riguarda gli euro e circa 2% al momento un valore molto basso di monete a riserva del remimbi mentre le transazioni mondiali in remimbi sono circa il 10% ancora a riserva la moneta cinese è molto poco utilizzata quale sarà lo shock lo shock sarà che se gli americani e c'è tutta una parte di mondo che ha delle tensioni con gli americani per tutta una serie di motivi noi siamo una parte di mondo che gli americani sono i nostri alleati e quindi siamo tutelati da questa cosa ma c'è una parte di mondo tra paesi birix tra russia tra cina per certi versi e il rapporto con l'india non è proprio non è proprio sempre sereno che questa cosa sull'idea che il dollaro e che le riserve possano essere bloccate e da adesso in avanti li spingerà a rialloccare il loro portafoglio di riserve e perché questo è un grande danno per gli Stati Uniti perché avere una moneta internazionale garantisce una domanda di asset e di dollari una moneta internazionale è quella in cui la maggior parte delle transazioni viene svolta in cui si comprano le commodities in cui si scambiano i beni nel mondo e questo vuol dire che c'è sempre una grande domanda di questa moneta e nei sistemi moderni nei sistemi attuali come si fa a produrre la moneta una banca centrale sono tanti modi però adesso poi Stefano magari farà degli approfondimenti su una moneta creata dal sistema bancario però in generale la moneta per quanto riguarda la banca centrale viene emessa comprando titoli di Stato quindi in questo caso titoli del debito pubblico americano e se quindi gli Stati Uniti devono fornire i mercati mondiali di dollari vuol dire che si devono comprare tanto debito pubblico loro per emettere questi dollari e questo vuol dire che se sarà sempre una domanda di debito pubblico americano e questo gli permette di finanziare un grande vantaggio che gli permette di finanziare la propria la propria spesa pubblica e permette anche in questo modo di finanziare quel deficit che ci siamo visti quel deficit che è dato dal fatto che l'economia americana può spendere e può produrre debito e pertanto pubblicare la spesa specialmente spesa di importazioni può permettere un conto corrente strutturalmente in deficit questo è un po' per tornare a che cosa avevamo visto all'inizio e da adesso in poi questo privilegio piano piano verrà eroso in che tempi ci vorranno 10 anni ci vorranno 15 anni ce ne vorranno 5 questa cosa dipende da come gli avvenimenti di questi giorni si andranno avanti aggiungo però una cosa Lucio cioè c'è da dire che nella storia duecenti del dollaro cioè da quando il dollaro riserva di valore internazionale quindi diciamo dalla fine della seconda guerra mondiale in avanti esiste tutta una parte degli scambi internazionali che di fatto sono fatti comunque in dollari indipendentemente dalle parti che si trovano ad effettuare lo scambio mi sto riferendo proprio ai mercati delle materie prime il mercato petrolifero è un mercato che funziona con scambi in dollari mi sto riferendo all'oro il mercato dell'oro è un mercato in cui gli scambi avvengono sempre in dollari i prezzi vengono fatti in dollari questo significa anche che la protezione di questa convenzione che può anche essere nominata privilegio difende in parte la rilevanza dell'uso del dollaro come riserva internazionale e il bisogno di dollari aggiungo che quando cade il sistema di Bretton Woods e si entra nel nostro sistema il nostro sistema con un dollaro e moneta internazionale di questo tipo viene diciamo reso possibile dal fatto che l'Arabia Saudita è produttore di petrolio decide di quotare in dollari il petrolio e oggi perché richiamo questo fatto perché pochi giorni fa l'Arabia Saudita ha iniziato a dire che sarebbe disponibile ha iniziato ad avere contatti con la Cina di quotare il petrolio anche in Wuhan questo creerebbe un acceleratore per l'utilizzo di Wuhan nel mondo e quindi io però questa storia l'ho già sentita era il 2003 e la valuta allora che avrebbe dovuto quotare era l'euro per quanto riguarda le transazioni di petrolio iracheno e se vogliamo l'aveva detto Saddam Hussein è stato invaso però ognuno poi si fa l'idea che vuole però questa cosa c'è non è il motivo che ha portato all'invasione però ha contribuito c'era questa cosa e adesso però è ancora più rilevante perché l'Arabia Saudita è uno storico alleato degli Stati Uniti d'America l'Iraq era un paese con cui comunque si sono combattute due guerre una guerra in quel caso e quindi secondo me è ancora più rilevante come tema gli ultimi proprio le ultime cose poi non le torturiamo più una cosa importante che in questi giorni si sta discutendo che potrete sentire è il fatto che il debito russo giro per il mondo che abbiamo detto non è sertanto però è uno debito pubblico detenuto da entità estera e chi ha comprato questo debito pubblico si aspetta il pagamento degli interessi a marzo sono state allentate il governo americano ha dato l'ok per sbloccare dei conti del governo russo per pagare in dollari gli interessi sul proprio debito adesso almeno io mi sono cercato sono due giorni che non ho più dati però fino a 3-4 giorni fa l'idea era che non fosse possibile per la Russia cedere i propri conti in dollari per pagare il proprio debito alla slide 32 gli interessi sul proprio debito alla slide 32 vedete che aprile il mese d'aprile è un mese qui la fonte Financial Times ha raccolto i dati da JP Morgan la banca di investimento di JP Morgan in aprile il governo russo deve deve pagare più di 2 milioni più di 2 miliardi di dollari di interessi e al momento non è in grado di farlo perché c'è i conti bloccati gli americani hanno già iniziato a dire che questo sarebbe un default un default della Russia i russi dicono noi siamo perfettamente solvibili solo che non possiamo accedere ai conti quindi questo è un altro tema che entra nella militarizzazione dei processi economici quindi non solo una militarizzazione sui processi di pagamento sulla possibilità di accedere alle riserve ma anche come conseguenza l'impossibilità di pagare e non solo per il governo ma anche delle imprese che avevano messo dei bond i propri derbiti e questo non può che portare al fallimento fallimento tecnico poi che queste entità siano meno solvibili noi questa cosa non siamo in grado di non siamo in grado di verificarla certamente queste imprese e quelle del governo non è in grado di ripagare quello che avrebbe dovuto ripagare l'ultima slide mette un po' in fila mette un po' in fila diciamo le mie perplessità ovvero che con questa la mossa che la sanzione che noi come Europa e come Stati Uniti abbiamo messo in atto ovvero di non poter congelare tutte le riserve come ce l'avevamo detti è una sanzione senza precedenti e avrà delle conseguenze enormi sul sul sistema monetario ovvero sulla domanda dei paesi meno sicuri di valuta di asset americani ed europei o inglesi da mettere a riserva questa cosa avrà un cambiamento cercheremo di capire cercheremo di capire di che entità che stravolgerà le nostre le relazioni economiche anche i nostri livelli di vita perché comunque il fatto che gli americani avessero questo beneficio che potessero pompare domanda in giro in giro per il mondo sostenendo anche le nostre economie probabilmente non sarà più così per quanto riguarda le valute coperte da commodity questa era una proposta che un inglese economista inglese che voi conoscerete sicuramente John Maynard Keynes aveva fatto alla conferenza di Bretton Woods del 44 ovvero l'idea di una moneta che non fosse la moneta di un singolo paese ma che potesse essere una moneta internazionale io come se la proposta della valuta coperta da commodity è del tract of monetary riforma del 23 mentre l'International Fearing Junior come sai benissimo non era coperta da commodity ma era direttamente connessa per stops vabbè adesso non entriamo in questa dinamica mia ora migliore forse è interessante riprendere questo tema di come costruire un sistema di pagamento internazionale improntato a rapporti pacifici fra le potenze che era esattamente il problema che si era posto a Bretton Woods John Maynard Keynes la strada che poi si intraprese fu un'altra e oggi quello che ci hai raccontato tu parla di un sistema dei pagamenti internazionali improntato non tanto alla pace ma alla guerra noi ci stiamo attrezzando abbiamo messo in atto tutta una serie di cose con l'idea che questa guerra durerà ma più che altro con l'idea che questa guerra diventerà sistemica noi voi ragazzi avete avuto la sfortuna anche parte noi rispetto ai nostri genitori i nostri nonni di vivere in un sistema in cui ci fosse una pace una tranquillità economica noi ci siamo beccati una grande crisi economica più grande quanto meno la dopoguerra si è preso una pandemia e adesso ci prendiamo un contesto di guerra permanente e quindi di tensioni globali mondiali potremmo dire e quindi io dico sempre ai miei studenti siamo più negli anni 20 e 30 rispetto agli anni 60 70 80 che hanno vissuto quindi quando i vostri genitori dicono ah ma non trovate lavoro perché siete vagabondi no diciamo che si vive un altro mondo con tutte le altre sfide e anche noi dovremmo adattarsi dei modi di pensare totalmente differenti da quelli che si sono sviluppati negli ultimi 50 60 anni o poi magari esce un John Minor Keynes da questa generazione e ci risolve i problemi speriamo speriamo ragazze ragazze se volete fare delle domande questo è il momento io avevo una domanda riguardo il crollo del rublo se si può fare ci mancherebbe ok volevo sapere se era poteva essere ritenuta valida l'ipotesi del crollo del rublo come una mossa finanziaria da parte degli oligarchi russi questo perché lo dico data che il rublo ha ripreso in breve tempo il valore che aveva prima del preguerra e sia la vicinanza degli oligarchi gli oligarchi a Putin quindi cioè possibilmente loro avrebbero saputo dell'imminente guerra non so se mi sono spiegato o no non ho capito in che modo gli oligarchi avrebbero fatto abbassare il tasso di cambio no no non avrebbero loro indirettamente ma questa situazione e loro avrebbero sputtato l'abbassamento del tasso di cambio per riacquistare diciamo tutte le attività finanziarie prima vendute non so perché ho letto questa ipotesi e volevo quindi lei ci sta dicendo che visto che il rubro si è svalutato e tante tante quote di imprese o di asset comunque denominati rubli sarebbero state acquistate a prezzi più bassi questa dinamica non ho dati non ho dati per verificarla però potrebbe essere potrebbe essere una dinamica che è in atto all'interno della Russia noi adesso di quello che sta succedendo dentro la Russia non abbiamo poi io mi informo su media occidentale mi informo sul Financial Times sul New York Times non ho un non ho informazioni sia anche un po' per pigrizia ma anche un po' perché al momento non è facile accedere ai media russi però è sicuramente una cosa una dinamica che dobbiamo tenere in considerazione però per dirle sì o no dovrei avere delle informazioni quando saranno disponibili e proveremo a verificarlo è una dinamica speculativa che ha una razionalità economica quindi io la metterei come ipotesi per una ricerca grazie grazie mille altre domande se non ci sono altre domande io concludo dicendo che mi ha impressionato la ricostruzione che hai fatto la trovo molto buona alcune delle mie diciamo domande le ho poste durante la tua presentazione non ho altre domande da porti però anche forse per rendere meno drammatiche le conclusioni alle quali sei giunto che comunque rappresentano uno scenario al quale dovremmo non dico abituarci ma che dobbiamo prendere seriamente in considerazione io ritengo che una parte dell'analisi che vada fatta che inesianamente sono le conseguenze sulle quantità reali delle cose che ci hai detto è vero che ancora forse può essere prematuro andare a fare questa analisi per la mancanza di dati ma semplicemente perché dovrà passare qualche mese prima che i dati sulle quantità scambiate e sul cambiamento anche dei partner commerciali possano essere visibili però penso che da lì una volta che avremo questi dati si dovrà passare per comprendere quali saranno i nuovi assetti commerciali che rappresenteranno la cartina di tornasole dei nuovi blocchi geopolitici io credo che una delle conseguenze comunque di questo di questi otto anni dal 2014 ad adesso è che un paese per quanto deficitario sul piano democratico un paese che non è una democrazia come la Russia che comunque si era integrato commercialmente all'unione monetaria europea e che in qualche modo poteva quindi essere un interlocutore forti del fatto che esistevano rapporti commerciali forti oggi non è più un paese integrato commercialmente in modo forte con i paesi dell'unione monetaria europea e quando si distruggono questi processi non possono essere ricostituiti rapidamente e quello che credo che avverrà sarà che questo paese per poter sopravvivere rispetto a quella che è lo sbocco delle sue merci oltre che la fornitura dei beni necessari non può che integrarsi commercialmente in modo maggiore con la Cina e con altri paesi forse l'India forse alcuni paesi medio orientali e se questo avverrà sul piano della politica internazionale cambieranno tante cose anche rispetto al modo di confrontarsi dei blocchi che verranno a costituirsi non so cosa pensi di questa mia ma è un meccanismo che non ha niente di è un meccanismo naturale perché comunque se non sono possibili collegamenti con un sistema ma se ne creano tra altri e questo è un effetto di cui noi prenderemo atto senza non c'è neanche bisogno di prendere parte e quindi mi sembra inevitabile che sia così d'altro canto e poi con questo concludo sarebbe interessante comprendere qual è il punto di vista di quegli imprenditori europei che legati a questi anni che hanno legato in questi anni parte del loro successo commerciale alla fornitura di nei confronti della della Cina ai processi di integrazione anche delle infrastrutture che dalla Cina portavano il gas verso l'Europa io credo che parte anche dei comportamenti elettorali che ai quali assisteremo nei nostri paesi per quanto l'opinione pubblica voglia indirizzare anche in qualche modo una campagna particolarmente agguerrita contro la Russia si renderà conto anche delle conseguenze di questo di questo disintegrazione commerciale e potrebbe non essere completamente d'accordo con la narrativa dominante la prima cosa che accadrà la vedremo fra poco in Francia dove credo che il comportamento elettorale di alcuni dei francesi sia anche condizionato dai costi delle sanzioni europee nei confronti della Russia che stanno sopportando che sopporteranno i paesi europei ma come sappiamo i paesi più esposti rispetto ai processi di integrazione commerciale con la Russia sono Germania ed Italia e vedremo che cosa accadrà anche in questo senso ancora una volta le dinamiche economiche poi hanno un doppio filo anche con le dinamiche politiche vedremo vedremo ringrazio tutti per l'attenzione e in particolar modo Lucio per averci fatto una lezione così interessante e ci rivedremo dopo le vacanze di Pasqua e colgo l'occasione per fare a tutti i miei più cari auguri grazie 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 a tutti